E oggi tratteniamo di un argomento molto particolare, le ragazze che appunto sono molto difficili da capire soprattutto per le maschietti e essendo molto complicate come potrebbe un maschio semplice, un maschio novellino in tutto questo di 14 anni riuscire a convincere una ragazza ad uscire con lui? No. A lui piace però non capisce, allora dice guarda io non so più come fare, mi dice no? Allora perché mi sta riprendendo? Che bello! E allora, e io giustamente me ne esco e faccio vabbè dai fammi un po' vedere sta cosa. Ah e il tremo non mi metteria, te ne ricordi. Eh? Guarda di bro. Eh ma dai, sia a destra che mi fai a te. Bro! No vedi che sei a destra, c'è c'è. Nel backstage! Bro! Quando io mi avvicino qua, lui mi è in incontro. Eh beh. Dai dobbiamo fare una scena Cristo. Ma tu sei nel backstage. Il backstage, tu sei nel backstage. Ma lo mettiamo su YouTube. Sì, mi chiamo Andrea Baglio. Ciao Andrea. Guardi qui quando sei pronto. Io so tre ore che sto pronto. Ma non mi dovete far ridere che tu mi hai fatto qualcosa di qualcosa di qualcosa di qualcosa. Io so tre ore che sto pronto. Che cazzo, mi fate l'idea appena prima. Che cazzo hai il vento adesso? Quell'altro. Madonna, era pronto! E la madonna. Dio, in crocia X. Guarda, non va così bene. Perché... Non te l'ha data? Sono un paio di giorni che... Non va bene. Ma se stava parlando, un po' di visione. Ma lo senti che parla? Con quello! Ricordi di questa legge! Ma proprio lei! Con questa ragazza! Che dici? Tutto posto. Attento, perché sei sempre quello, no? Che con lo studio va un po' male. Ma che cazzo c'è? Come rimorchiare e lui mi dica... Oh, bello, fai tutto bene. Ma stai. Ricominciamo, per favore, da capo. Bro! Oh! Perché non ti stai sinto, Cristo? Chi? Lui! Ah, ecco. Non ho fatto niente oggi. Io devo usare il telefono in fase. Bro, magari neanche lo mettiamo. Però deve essere un segnale che lui mette via le robe. Capito? Bro! Mi sono, madonna. Non hai visto più? Un gradino, ragazzi. Un gradino. Bello, zi, come stai? Bello, tutto bene. Che ne so, ho cominciato a dire fare. Mannaggia. A lingua senza? Non ho ancora quei sciarri. Non sai come cominciare? No, non ho idee. Di solito lo sai che sono molto sciolto, ma stavolta non ho proprio idea. Allora, la prima cosa devi prendere come esempio il cane. Perché lui, che dà quattro zampe, è l'esempio vivente del pisello piccolo. Come puoi ammirare. Quindi, il cane, in questi casi, è la maggior cura che puoi avere. Intanto il cane è una cosa da rimorchio incredibile. Il cane, col cane rimorchi. Ma soprattutto con questo tipo di cane. Perché non so come spiegartelo. Alla fine, le ragazze le devi sapere prendere. Non come pensi tu, in realtà. Magari devi anche stuzzicare quando trombate perché è importante nel rapporto sessuale, anale. No. Mi ho fatto ridi come hai detto. Glamatoeur. Glamato. Glamato. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.